Sempre un passo indietro di Cristina. Circa dieci anni fa mi trovai coinvolta in un progetto di scrittura che prometteva creatività e collaborazione. Il team, composto da soli uomini, si riuniva regolarmente per sviluppare un progetto cinematografico. Quella che all'inizio sembrava un'esperienza piacevole, purtroppo a un certo punto si trasformò in un cammino accidentato, segnato da discriminazioni e mancanza di rispetto. Anni dedicati alla scrittura, una passione che avrebbe dovuto portarmi gioia e soddisfazione, mi condussero invece a un percorso segnato da marginalizzazione e umiliazioni. I primi mesi le mie idee venivano in apparenza accolte con entusiasmo, ma col passare del tempo la mia presenza parve ridursi a quella di un assistente chiamata solo per svolgere mansioni di riscrittura di idee altrui. La mia creatività era costantemente clissata da una cultura che trasformava la mia figura in una sorta di aiutante, incapace di offrire contributi significativi. Ma non solo. Le mie critiche costruttive erano sistematicamente ignorate. Le decisioni erano prese senza tener conto delle mie prospettive, le difficoltà che sollevavo erano spesso trascurate. La situazione peggiorò quando nella squadra entrò un altro collaboratore che durante una riunione notò gli stessi problemi che avevo rilevato io nel progetto. Ma le sue osservazioni verranno accolte con entusiasmo e approvazione. Le idee di un uomo sembravano avere automaticamente più peso delle mie, riflettendo un modo di lavorare che non riconosceva le competenze delle donne alla pari di quella degli uomini. Grazie.